All'ospedale di Sulmona il paziente sarà fatta immediatamente la diagnosi e vista l'estrema gravità del caso è stata condatta da subito la cardiochirurgia di Chieti per disporre il trasferimento del malato al fine dell'intervento chirurgico. Da parte nostra dunque è stato fatto tutto in tempi rapidi, nel pieno rispetto del protocollo. Così il manager dell'ASL1 Rinaldo Tordera sul decesso di Lorenzo Di Nino, 69 anni, di Pratola Peligna, avvenuto il 12 agosto scorso a Terni. Condividendo a più nel dolore dei familiari per la dolorosa vicenda è tuttavia doveroso rimarcare che tutto il personale dell'ospedale di Sulmona coinvolto si è adoperato con tempestività e dedizione facendo quanto era nelle sue possibilità umane e professionali per cercare di trovare una soluzione, precisa il direttore generale. Tordera spiega che il paziente appena giunto al pronto soccorso di Sulmona è stato tempestivamente sottoposto a diagnosi direttamente dal direttore della cardiologia Ezio De Pratti che ha rilevato una situazione gravissima per la quale l'unica possibilità per tentare di salvare la vita era l'intervento chirurgico. Pertanto, operando in tempi assai serrati nel pieno rispetto delle procedure, conclude il manager, in pochissimi minuti De Pratti ha contattato la cardiochirurgia dell'ospedale di Chieti che però avendo in corso un intervento urgente ha comunicato di poter essere operativa a partire dalle ore 15. Nel frattempo tuttavia la piena mobilitazione dell'ospedale di Sulmona aveva consentito di trovare un posto in sala operatoria all'ospedale di Terni dove poi il paziente è stato trasferito.